Era la prima finale, la prima finale che giochi da titolare, insomma non è andata male. Diciamo che non ho ancora realizzato, ho realizzato nei prossimi giorni come è successo con la Supercoppa. Io penso che stasera abbiamo fatto una partita perfetta come ho detto prima dell'intervista dal punto di vista tattico. Non l'abbiamo mai mollato, nonostante anche l'ultimo set, comunque eravamo tanto avanti, loro ci hanno recuperato. Però abbiamo dato tutto quello che potevamo, siamo felici di portare a casa anche questo trofeo. Il cammino è ancora lungo perché dobbiamo ancora fare tanto, però per adesso non ci possiamo lamentare. E che dire, siamo una bella squadra perché chiunque entri dalla panchina dà il massimo, fa tutto per aiutare la squadra, per risolvere un cambio palla, per risolvere un break. Quindi sono felice perché è una vittoria condivisa di tutti, assolutamente. Milano è una squadra fortissima ma non le avete mai lasciate giocare. Milano sì, avevamo giustamente un po' di paura perché sapevamo che si stava esprimendo a ottimi livelli come ha fatto ieri nella semifinale contro Bergamo. Io la tenevo anche un po' di più perché comunque è una delle mie ex squadre, quindi ci tenevo a fare bene, ci tenevo a portarla a casa, però siamo state fantastiche, quindi siamo felice. Grazie a tutti!